Biologia marina Aristotele 384-322 a.C. Filosofo, scienziato e logico greco ritenuto una delle menti più universali, innovative, prolifiche e influenti di tutti i tempi per la vastità e la profondità di conoscenza, compresa quella scientifica. Fu tra i primi a studiare in modo organico gli animali acquatici, ponendo le basi della biologia marina. Perché? Commento L'evoluto che è tale perché nei pressi dell'ultima incarnazione umana inizia a sentirsi parte dell'universo che cerca di penetrare con la mente. In attesa, quando non sarà più uomo, di penetrarlo compiutamente di coscienza. Grazie. 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 Grazie.